Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Questo è quanto è stato rilevato questa mattina a fianco di strada a Montefeltro, all'altezza di case bruciate di fronte al locale Pepesale, durante i lavori di ampliamento stradale presenti nella zona. Gli operatori impegnati, una volta accorti dalla presenza dell'esplosivo, hanno subito allertato le forze dell'ordine, che sono intervenute con una pattuglia di polizia e una squadra di artificieri dell'esercito proveniente da Bologna. Arrivati sul posto, i militari hanno confermato che si trattava di un ordigno e una volta messa in sicurezza l'intera area, hanno proceduto con il risotterramento. In accordo con la prefettura saranno attivate tutte le procedure del caso che nell'arco di settimane prevederà la rimozione dell'ordigno ed eventuale brillamento. Le operazioni condotte tra tarda mattinata e primo pomeriggio hanno causato qualche rallentamento di traffico, provocato anche dai diversi curiosi che si sono fermati a debita distanza ad osservare l'intervento delle forze dell'ordine.